Allora Canis, anche per te con quali prospettive arrivi a Chetanzaro? Arrivo molto motivato dopo una stagione non facilissima, sono molto motivato e darò il massimo per questa squadra. Hai già fatto vedere buone cose, oggi hai sbloccato tu il risultato, ci sarà da combattere per trovare un posto di squadra, però evidentemente ti vorrei giocare le tue carte. Assolutamente sì, più concorrenza c'è meglio è, fa bene al gruppo la concorrenza e siamo un gran gruppo, quindi sono sicuro che chi giocherà darà il meglio e il 100%. Per la prima volta hai giocato nel primo tempo, questo è un buon segnale per te? Sì, è importante iniziare la partita dall'inizio perché è un senso di responsabilità, però stiamo davvero lavorando tutti bene, non è importante chi inizia per primo perché non dico questa cosa così, ma credetemi stiamo veramente lavorando tutti bene e tutti meritiamo di giocare. Senti, infatti, ti abbiamo visto giocare a sinistra nelle prime uscite, oggi invece hai giocato a destra, qual è la tua posizione preferita? Non ho una preferenza, sono a disposizione del mister, sinistra o destra decide lui in base a dove mi trova meglio e dove secondo lui posso aiutare meglio la squadra, non ho una preferenza. Senti, sai che questo è un girone difficilissimo, tu non l'hai mai disputato, un giocatore dalle tue caratteristiche può essere molto utile, però un giocatore dalle tue caratteristiche attira anche i calcioni in questa categoria, sei pronto anche a questo tipo di partite? Sì, sono pronto, me l'hanno già annunciato, però vabbè dai, da velocista qualche calcio so che arriverà sicuro, però vabbè dai, fa bene dai, fa bene. Fa bene a crescere. Sì, fa bene dai. Posso?